Ok ragazzi, siete Volodymyr Zelensky, altresì noto come Captain Ucraina, perché quando i russi hanno invaso la vostra nazione, voi invece di riparare all'estero come dei bippardi qualunque, siete rimasti per aiutare il vostro popolo a resistere. Da circa tre anni avete rinunciato alla giacca e alla cravatta, ma soprattutto avete procurato miliardi, miliardi di dollari equivalenti in equipaggiamenti e armi che hanno aiutato per l'appunto il vostro esercito a tenere testa alla seconda superpotenza mondiale. Ebbene, quando approntate un piano per sconfiggere i russi con il supporto della comunità internazionale, che cosa potrà mai andare storto? Lo scopriremo fra qualche minuto, nel frattempo diciamo che è molto meglio se continuate a fare i fundraiser. Iniziamo infatti a parlare di nordcoreani e del loro ineffabile, indescrivibile e inammissibile leader, Kim Jong-un, il quale negli ultimi 3-4 giorni è diventato una vera e propria ingombrante star della geopolitica, per tutti i motivi sbagliati. Ad inizio settimana infatti si narrava che avesse già dispiegato 10.000 o 18.000 dei suoi uomini in Donbass, ovviamente per alleviare il fardello dell'esercito russo. I militari nordcoreani avrebbero ricevuto infatti uniforme russe e sarebbero stati inseriti nei battaglioni o nei reggimenti della Burazia, una zona dove le persone che vivono assomigliano più o meno ai nordcoreani e quindi in teoria all'interno di quelle unità i nordcoreani sarebbero passati perfettamente inosservati. Queste affermazioni sembrano o sembravano essere corroborate da altre due o tre notizie. Per esempio qualche tempo fa un altro ufficiale nordcoreano è affogato in un fiume russo dalle parti di Mosca, perché praticamente aveva deciso di farsi una nuotata probabilmente indossando l'uniforme con tutte le medaglie sue del papà e soprattutto del nonno, perché in Nordcorea le medaglie sono ereditarie. Tu indossi tutte le medaglie fino alla terza generazione, per cui anche se tu non hai visto una guerra, tuo padre non ha visto una guerra e tuo nonno ne ha combattuta una, sei fortunato avrai 20-30 kg di patacche da portarti dietro. Poi, seconda notizia, qualche tempo fa effettivamente durante un bombardamento nel Donetsk sono stati eliminati alcuni soldati nordcoreani, i quali ufficialmente si trovavano lì per fornire supporto ingegneristico. Quindi sì, apparentemente, secondo la versione ufficiale, i nordcoreani spiegano ai russi come si costruiscono strade, ponti, si riparano edifici e cose simili. Ma la notizia più interessante e divertente riguarda la defezione, anzi la diserzione, di ben 18 soldati coreani che in questo momento sarebbero letteralmente uccelli di bosco nel Donetsk o nel Donbass comunque. In pratica, pare sempre che una prima testa di ponte nordcoreana sia stata inviata con uniformi di soldati burazzi. Bene, 18 di questi soldati, invece di restare al fronte a combattere, avrebbero preferito giocarsela, svignandosela immediatamente. Non è una cosa che normalmente dovrebbe capitare a dei nordcoreani, perché molto banalmente, se tu diserti, poi lo stato centrale se la prenderà con tutti i tuoi parenti, quantomeno fino al terzo grado. E non è una cosa carina tornare a casa, o meglio, non tornare a casa e ritrovarsi nel frattempo, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi nipoti, o i tuoi genitori e i tuoi nonni, dietro le sbarre a morire di fame, oppure già belli che giustiziati. Non è esattamente carino. Però magari questi 18 soldati non avevano famiglia o avevano delle famiglie di Melma. Non sarebbero neanche i primi che disertano. Tempo fa l'ha fatto il figlio di un generale e ha battuto due record. Il primo record era per il parassita più lungo presente nello stomaco umano, e non sto scherzando. Il secondo record era il suo debole per gli oreo, per delle merendine. Era talmente portato a mangiare merendine, questo figlio di generale, che una volta arrivato in Occidente, o meglio, nella Corea del Sud, la società che produceva queste merendine ha deciso di dargli una fornitura vita. Lo ha reso un testimonial. Però, ripeto, era figlio di generale, il padre potrebbe essere caduto in disgrazia per causa sua. In ogni caso, la parte divertente consiste nel fatto che i militari nordcoreani e russi starebbero cercando questi 18. E i russi dicono, non possono essere andati lontano. Come fanno a vivere? Evidentemente non hanno capito con chi hanno a che fare. Perché i nordcoreani sono moltissime cose. Sono praticamente dei cervelli ultralavati, da Kim Jong-un e i suoi accoliti. Ma soprattutto sono dei veri e propri survivalist, dei sopravvissuti. Sono abituati a cavarsela con quello che hanno. Perché in Nord Corea, ragazzi, vige l'autarchia più assoluta. E normalmente nella società nordcoreana, a differenza di quanto avviene in Occidente, non sei tu a doverti domandare che cosa può fare lo Stato italiano per te. Non esiste un reddito di cittadinanza, per intenderci. Non esiste un reddito di inclusione. Ma sei tu che devi fare sempre e comunque praticamente tutto per lo Stato a gratis. Se tu sei un militare nordcoreano, il procacciamento del cibo è un problema tuo. Non del comando, dell'organizzazione militare o del Ministero della Difesa. Sei tu che ti devi arrangiare a trovare qualcosa da mangiare di volta in volta. E ragazzi, questo, oltre che orrendo, è tremendamente inefficiente. Perché se tu sei un soldato dovresti concentrarti su determinati compiti. Per le razioni di cibo dovrebbe pensarci l'esercito e naturalmente i cuochi dell'esercito. Nonché la linea logistica destinata agli approvvigionamenti, naturalmente. Però in Nord Corea non è così. Ogni soldato deve pensare a sé. E come pensa a sé, secondo voi? Coltivandosi qualcosina quando riesce o più spesso cibandosi dei frutti della natura che riesce a recuperare. Quindi quei 18 soldati che si sono dati alla macchia nel Donbass, se si sono studiati un pochino la vegetazione e tutto il resto, non avranno problemi a sopravvivere mangiando bacche, camminando per ore fino a raggiungere il confine e magari arrendendosi anche agli ucraini. D'altronde, se sappiamo che ci sono soldati nordcoreani in Donbass, qualche fonte attendibile ci sarà. Probabilmente qualche soldato coreano è già stato eliminato e qualcun altro è stato catturato, anche se la cosa non è ancora divenuta di pubblico dominio. Oltretutto, secondo alcune fonti, effettivamente nel Donbass non ci sarebbero ancora 10.000 soldati, ma ci sarebbe solo un'avanguardia. Il grosso delle truppe, per dirla così, sarebbe ancora in addestramento nella Russia dell'Est, insomma un pochino a nord rispetto alla Corea del Nord. Altri dati al momento non se ne hanno, tuttavia è interessante notare una cosa. Proprio perché la Corea del Nord è assolutamente uno stato autarchico e proprio perché vince quella disciplina del tu esisti solo in funzione dello stato, quando vengono arruolati i soldati nordcoreani non ci guadagnano nulla. I soldi dei loro salari o i rubli dei loro salari non finiscono nelle tasche loro o dei loro parenti. No, no, vanno direttamente nelle tasche di Kim Jong-un, il quale naturalmente spenderà questi soldi nel modo che più lo aggrada. E detto fra di noi, questo non è esattamente un incentivo per l'arruolamento, è semplicemente il dittatore di turno che dice tu, 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 per 10.000 volte andate ad addestrarvi in Russia e poi andate al fronte. Questa è la realtà. Detto fra di noi, non è l'unica cosa che Kim sta facendo in questi giorni. Infatti, recentemente, tutte le agenzie di stampa nordcoreane, che poi di agenzie di stampa ne esiste soltanto una ed è ovviamente controllata dalla famiglia Kim, ci ha tenuto a farci sapere che circa un milione, o forse addirittura un milione e quattrocentomila coreani si sono offerti volontari per diventare soldati. Quindi, dalla notte alla mattina, molto, molto, molto in teoria, l'esercito di Kim, il Grande, ma anche il Largo, conterebbe un milione, un milione e quattrocentomila unità in più, così de botto. E, più o meno contemporaneamente, per festeggiare, Kim, il Grande, il Grosso e il Pesante, ha deciso anche di far bombardare, in territorio nordcoreano, una strada che collegava la Corea del Nord a quella del Sud e viceversa. Viene visto da parte dei sudcoreani come un atto bellicoso e un atto in preparazione di un'offensiva ben più importante. I sudcoreani stanno anche maledicendo Putin in 15 dialetti diversi, perché Putin avrebbe fornito alla Corea del Nord delle tecnologie aerospaziali un pochino più recenti di quelle che avevano. Non stiamo parlando di Su-57, perché questo aereo fondamentalmente non esiste, però, insomma, parrebbe che gli abbiano dato un incentivo di tipo aerospaziale missilistico, per la precisione. Pochi missili, ma un pochino più moderni rispetto a quelli che avevano. E quindi Kim si sta bullando. Secondo un'altra teoria, portata avanti da analisti e geopolitici statunitensi, queste mosse di Kim sarebbero un favore nei confronti del Donaldone nazionale, cioè di Trump. Per quale motivo? Perché naturalmente il Donaldone è in campagna elettorale. E più la Corea del Nord, la Russia e l'Iran fanno bippino, più lui può dire che pensi mi, dammi 24 ore da presidente e sistemo tutti, anche perché i dittatori mi adorano. Kim ho dichiarato tempo fa di essere innamorato di lui e lui ha ricambiato. Io ci sto scherzando, ma queste affermazioni il Donaldone le ha fatte davvero. Poi non è un segreto di Stato che sia amico di Vladimiro Vladimirovich, di Putini e anche con l'Iran ha qualche trascorso un pochino teso, credo abbia fatto saltare per aria un generale con un drone, però in linea di massima il Donaldone con le dittature ci va a nozze. Detto fra di noi, non è neanche chiaro se abbia incontrato o sentito Vladimir Vladimirovich dopo aver perso la carica di presidente, perché questo potrebbe essere relativamente grave. Inizialmente si vantava di averlo contattato, di avere rapporti costanti, adesso invece il Donaldone vola decisamente più basso. Il concetto di fondo è che comunque Kim Jong-un potrebbe fare tanto bippino solo per dare una mano al suo amico Donaldone. Questo perché effettivamente un'America che è molle, che non difende i diritti nei suoi né negli altri, è preferibile a un'America tosta che traccia delle linee e poi le fa rispettare. Ragazzi, tra l'altro in questo momento sono arrivati le immagini relative agli addestramenti dei soldati nordcoreani in Russia. Le vediamo domani. Nel frattempo mi tocca parlare del famoso piano di Volodymyr Zelensky. Voi sapete che io per Zele porto il massimo rispetto e sinceramente lo vorrei avere fra i fundraiser della mia ex casa di riposo, perché servirebbero persone come lui per garantire un radioso futuro all'ente. Sventuratamente però lui si ostina a continuare a fare il presidente dell'Ucraina, quindi me ne devo fare una ragione. Comunque sia, ieri ha finalmente mostrato il suo piano per la vittoria o qualcosa del genere. È un piano in cinque punti, ok? Ve li cito in ordine, poi purtroppo mi tocca discuterli, perché non è che mi sconquiffera tanto questo piano, ecco. Allora, punto primo. Secondo Zele, l'Ucraina deve entrare nella Nato ora, subito. E in pratica deve spiegare anche, deve anche integrarsi nell'architettura degli altri stati partner. Secondo punto, bisogna rinforzare le difese attraverso operazioni in Russia, eliminando gli aeroplani avversari, gli velivoli avversari, espandendo l'uso dei droni ucraini e dei missili, quindi anche oltre il confine, e alleviando ovviamente le restrizioni all'uso delle armi. Nonché bisogna favorire l'accesso dell'Ucraina ai dati di intelligence dei partner. Terzo punto, anzi, vediamo un pochino. Terzo punto, scoraggiare le aggressioni russe, ci sta. In pratica dovrebbe esserci un dei documenti segreti, accessibili soltanto ai leader di Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia. Perché l'Italia? Non mi sembra che ti stiamo aiutando così tanto, Zele. Però, per carità, onorato, eh? L'Ucraina suggerisce di spiegare a un pacco di armi non nucleare sul territorio per scoraggiare ulteriormente i russi. Quarto punto, potenziale strategico ed economico dell'Ucraina. Oltre a queste forniture segrete, che dovrebbero essere passate dagli Stati Uniti e dall'Europa, bisognerebbe fornire un accordo, raggiungere un accordo con i partner su come utilizzare le risorse, il potenziale economico dell'Ucraina. E infine c'è il periodo relativo al post-guerra. Perché con questi quattro punti, tu, Vladi, lo suoni come un tamburo, eh? L'importante è che non lo suoni come un piano, Zele. Questa battuta è per pochi intenditori. Allora, l'esperienza ucraina dovrebbe essere utilizzata per tutta l'alleanza, cioè per tutta la Nato, e per la difesa dell'Europa. Quindi Zele suggerisce di sostituire i militari americani in Europa con delle truppe ucraine al termine della guerra. Ora, Zele, sinceramente, lo ripeto, mi stai simpatico tu, mi sta simpatico il tuo popolo. Di questo non ne ho fatto segreto. Ogni volta che c'è un'iniziativa, cerco di parteciparvi con i miei mille limiti. Però, devo dire che questo piano fa a tutte le parti o quasi. In primo luogo, tu dici che l'Ucraina deve entrare nella Nato subito. Ma il problema sta nel fatto che la Nato non è solo ed esclusivamente un'alleanza militare. La Nato prevede anche l'integrazione a livello amministrativo e economico e devi raggiungere un certo standard di Stato. Devi, cioè, applicare tutte le riforme che ti rendono a tutti gli effetti una nazione equivalente a un'altra della Nato, tranne forse la Turchia che prima è entrata e poi ha abbassato i suoi standard. E forse anche l'Ungheria, se non erro. Il concetto di fondo è che tu prima devi sconfiggere cose come la corruzione endemica, devi riuscire a migliorare la tua economia, favorire la concorrenza e quando la trasparenza c'è già ma dovrebbe diventare ancora superiore, quando riesci ad avere una macchina pubblica che assomiglia quantomeno a quella italiana che è proprio allo standard un pochino più basso escludendo ovviamente Turchia e Ungheria allora possiamo parlare di entrare nella Nato. Fino ad allora mi dispiace ma la risposta è no. La Nato non è solo un'alleanza militare. Per entrare nella Nato devi raggiungere degli standard minimi proprio in tema di amministrazione pubblica, libera concorrenza, garanzie dei diritti per le persone. E non lo puoi fare in guerra, chiaramente. Però, ripeto, sempre favorevole ad aiutare l'Ucraina solo che per ora il tesserino della Nato non te lo darei. Ecco. Secondo punto, Zelensky parla di rinforzare le difese operando in Russia ma eliminando gli aree... sostanzialmente vuole una no-fly zone. Questa Zele te la supporto al 100%. Anch'io sostengo che avremmo dovuto fare una no-fly zone sull'Ucraina da tanti, tanti, tanti... non così tanti anni, diciamo due anni e qualcosa. Poi, mi lascia un po' perplessa la tua fiducia nell'Italia però, Zele, magari tu hai delle informazioni che io non ho. Tu probabilmente conosci Crosetto meglio di me e anche l'altro, quel tizio Matteo sicuramente lo conosci meglio tu di me. Se ti fidi dell'Italia farai sicuramente bene. Poi, deterrenza rispetto all'aggressione russa anche qui piano segreto con l'Italia contento tu, contenti tutti. Poi, potenziale strategico ed economico ottima idea quella di organizzarsi per il dopo francamente pensavo che fosse già stato fatto perché sinceramente non mi è mai passato neanche per l'anticamera dell'ingresso del balcone del cervello. il fatto che ti arrivino così tanti aiuti senza promesse poi un domani di avere a disposizione dei contratti in Ucraina che permettano agli stati o meglio alle multinazionali che operano nei nostri stati di trarre un minimo di profitto. però, patti chiari, amicizia lunga concordo anch'io poi, post guerra dovremmo sostituire le truppe americane con le truppe ucraine? Zele, con tutto il dovuto rispetto no sicuramente gli ucraini possono collaborare con noi un domani che spero sia letteralmente non domani e non fra mille mila anni sono all'interno della Nato quindi, come tutte le unità all'interno della Nato ci si può scambiare ci sono italiani di stanza in Bulgaria se non sbaglio Romania e forse anche Polonia principalmente nell'aviazione perché gli aeroplani che sorvegliano lo spazio aereo rumeno sono anche nostri e certamente degli ucraini possono venire anche in Italia a formare le nostre truppe a insegnarci come combattono come fanno finta di combattere i russi ci sta naturalmente è un valore aggiunto ma chiederci di sostituire le truppe americane con le tue è un filino eccessivo anche perché Zele con tutto il rispetto e l'ammirazione che ho per i tuoi soldati purtroppo noi occidentali siamo stati un po' bippardi ti abbiamo rifilato i nostri fondi di magazzino che valgono sì miliardi e miliardi di dollari ma sono fondi di magazzino i tuoi soldati sono stati addestrati a usare degli M1 Abrams che si usavano nel 1990 letteralmente le tecnologie che noi abbiamo a disposizione sono un pochino migliori di queste quindi no non posso permettere che i tuoi soldati addestrino i nostri perché con tutta la buona volontà capacità eccetera lo standard operativo rispetto all'M1 Abrams di prima generazione è un pochino cambiato certamente i tuoi possono insegnare diverse cose ma non possono sostituire i nostri soldati si trova comunque una soluzione una via di mezzo voi ucraini state combattendo anche per la libertà d'Europa e questo deve essere riconosciuto bisogna naturalmente dopo la guerra permettere agli ucraini di recuperare le proprie vite di ricostruirle però tecnicamente a questo piano in parte non è condivisibile detto banalmente poi naturalmente non sei certamente ai livelli dei russi e sicuramente nelle nostre nazioni vieni ascoltato un punto di incontro si troverà mentre invece se entra l'Avrov fai quattro risate poi gli dici grazie per essere passato ma no grazie arrivederci insomma è così detto fra parentesi chiudiamo con un'ultima notizia che è stata smentita da fonti ucraine il concetto di fondo è che purtroppo l'Ucraina ha ceduto un enorme arsenale nucleare in cambio della garanzia di pace è una cosa che nessuno pochissimi probabilmente pochissimi stati nella storia hanno fatto delle nazioni si sono impegnate a garantire la sicurezza dell'Ucraina Gran Bretagna Stati Uniti e dovrebbero mantenere questa parola eventualmente portando anche i loro uomini sul campo questa è la versione esiste anche una versione un pochino soft nel tempo l'Ucraina era una potenza termonucleare perché non può riarmarsi se ci pensate bene l'Ucraina ha centrali nucleari nelle centrali nucleari un pochino di plutonio si può sempre formare sono anche centrali sovietiche in alcuni casi quindi sono già predisposte per arricchire l'uranio e produrre un pochino di plutonio basta prendere un po' di plutonio ti fai una testatina nucleare che non è che deve essere l'equivalente di quelle americane o che si trovano in Europa ma ti basta anche qualcosa di più piccolo non lo so una bombetta nucleare tipo quella fatta scoppiare a Nagasaki nel 1945 quella può anche funzionare come deterrente costruisciti quella o perlomeno questa è l'ipotesi che è stata avanzata da alcuni giornali in realtà gli ucraini hanno detto che non stanno assolutamente costruendo ordini nucleari e che questa è solo propaganda russa la situazione bene o male al momento è questa e voi che cosa ne pensate del piano di Zele può avere successo e sono io a essere pessimista e anche un pochino rompiscatole oppure effettivamente questa volta captain ucraina ha preso una mezza cantonata come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto se poi vi piace il canale come sempre ricordatevi di ricompensare il lavoro che apprezzate se vi piace il canale iscrivetevi attivate la campanellina se vi piacciono i video ricordatevi di condividerli e poi di mettere anche il like per voi sono solo pochi click ma sono importanti per il canale se poi vi sentite eroici ricordatevi di abbonarvi o di diventare dei patreon se non farete nulla di tutto questo in un futuro remoto improbabile decisamente eventuale potreste ritrovarvi come Zelensky che alla prima riunione di condominio come vostro vicino alla prima riunione di condominio propone un piano per la pace condominiale ok io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti grazie a tutti